Musica Se l'Italian Super Bowl inizia con Michele Canari che spiega a modo suo mettendo segno il diciottesimo sec di una stradipante stagione che per i quarterback di Bologna Eric Marti sarà una notte lunga e non troppo felice Se Tenyon Bissell mette la ciliegina sulla torta della sua partita fatta di 4 touchdown e 2 touchdown pass completando il kickoff return che in apertura di terzo quarto taglia le gambe ai Warriors Se il braccio di Tommaso Monardi, unico quarterback italiano titolare della EFL e primo quarterback italiano a giocare il Super Bowl inventa parabole incredibili pescando i compagni con lanci di 40 yards di minimetrica precisione Allora la serata non può che finire in trionfo con qualche vecchietto, tra virgolette, che scarica la tensione arrampicandosi sulla recensione per ricevere l'approvazione del pubblico o scarica un urlo liberatorio verso i tifosi perché i Panthers Palma si confermano campioni d'Italia e il presidente Tira può liberare la tensione prima di alzare il trofeo per la seconda volta in due anni stavolta nello stadio di casa Quel 25 aprile di Moletolo, gremito come non mai nella sua storia, con oltre 2500 spettatori che rappresenta un ulteriore successo per i Panthers, organizzatori della finale Ma la vittoria nell'Italian Super Bowl contro i Warriors non è iniziata tutta qui passa anche per le gambe di Spears, per le mani di Finadri, per il piede di Vergazzoli per i parcheggi di una difesa rocciosa, per le prove impeccabili degli uomini del special team e per l'efficacia di un attacco micidiale e imprevedibile La finale prometteva spettacolo e le attese non sono state tradite Nel primo quarto si vedono già 4 touchdown Prima segna Jason Taylor Spears con una corsa di 5 yards trasformata da Vergazzoli Risponde Peoples con una ricezione a largo su un bel passaggio di Marti sotto pressione Guerra non sbaglia e siamo 7 a 7 Poi i Panthers confezionano un'azione spettacolare Monardi serve a destra a Bissell che a sua volta pesca in profondità Finadri che se ne è indisturbato La reazione dei Warriors arriva con una corsa di 33 yards di Scott Alla fine del primo quarto l'equilibrio è rotto solo dall'errore in trasformazione di Guerra 14 a 13 per i Panthers Nel secondo periodo le squadre continuano a rispondersi colpo su colpo ma al primo drive offensivo dei Warriors dopo il touchdown trasformato realizzato da Bissell su passaggio di Monardi Gennaro e Compagni costringono i bolognesi il field goal realizzato da Guerra per il 21 a 16 Panthers Un vantaggio che i parmigiani incrementano con una corsa breve di Spears con trasformazione di Vergazzoli I Warriors non ci stanno e pur meno matti dall'infortunio occorso a Peoples che non sarà più del match vanno segno due volte con lo stesso quarterback Marti e con una ricezione di Marco Piva Grazie alle trasformazioni di Guerra i Warriors vanno in vantaggio per la prima volta 28 a 30 Ma prima dell'intervallo lungo è ancora la premiata coppia Monardi-Bissell con la collaborazione del quasi infallibile Vergazzoli che permette ai Panthers di andare a riposo avanti per 35 a 30 Nel terzo quarto, come spesso accaduto in questa stagione i Panthers mettono a segno il black decisivo che li mette a distanza di sicurezza da eventuali rimonte dei Warriors Prima grazie allo splendido kickoff return di Bissell di cui abbiamo parlato in apertura e di cui gustiamo nuovamente le immagini Poi, grazie alla ricezione di Michele Canali su passaggio di Tommaso Monardi un touchdown che la dice lunga su quali siano le immense potenzialità del giovane difensore azzurro, capace di dare un validissimo contributo anche in attacco 13 punti per i Panthers alla fine del periodo unico errore di Vergazzoli nella partita cui i Warriors riescono soltanto ad opporre un field goal di guerra il tabellino, in apertura dell'ultimo periodo, recita 48 Panthers, 33 Warriors il quarto periodo si apre con uno splendido lancio di Bissell per Gasparri che mette anche la sua firma sul Super Bowl l'americano Marty replica con una breve corsa personale ma i bolognesi sembrano provati e l'assenza di Peoples restringe le possibilità di variare il gioco affidato soprattutto alle portate di Scott con una splendida corsa di 30 yards Spears segna il suo terzo touchdown personale cui risponde stavolta Scott con una corsa breve le emozioni non si arrestano la partita negli ultimi minuti regala ancora diversi sussulti prima arriva una pennellata di 40 yards di Monardi per Bissell poi i Warriors entrano due volte in endzone riducendo lo svantaggio fino a 69 e 62 grazie ai passaggi vincenti di Marty per Parlangeli 47 yards e Piva, 10 yards una trasformazione da due Marty Parlangeli e il piede di guerra mettono qualche apprezzione e il presidente tira ma il numero uno nel argento poterà un sospiro di sollievo quando Spears si beve tutta la difesa e si concede il lusso di qualche corsa inutile non per mancanza di sportività ma per far correre la nascita del cronometro l'americano viene espulso e la stessa sorte tocca a un giocatore bolognese dopo qualche colpo proibito e qualche attimo di tensione sulla sideline Warriors ma le animosità si spengono subito e la festa può cominciare C'è la decezione Buono, questa è la Lancia, ma è finita un conto, è finita la partita, in parte a Spagna vincono questo incontro 76-62. Grazie per la visione!